Allora, qui siamo sull'Astricon, non è detto, cioè, questo è un esempio perché alcuni appartamenti sono chiusi, sarebbe sostanzialmente il doppio di questo qui che c'è ora, quindi questa sezione sostanzialmente è una sezione quasi analoga da quest'altra parte, di lì c'è Duomo, non ricorda, cioè lì che stanno facendo un ragazzo, di qua c'è tutto l'affaccio sulle Alpi e da quella parte ci sono tutti gli edifici del Politecnico, praticamente il Politecnico è isolato da voi, quindi eventualmente per evitare a studenti, in caso un giorno me ne vado, non si può fare.